La prossima interrogazione illustra e replica l'onorevole Davide Gariglio del Partito Democratico. ...relativi allo svolgimento in autoproduzione delle operazioni portuali da parte del gruppo Grandi Navi Veloci nel porto di Genova. Il deputato Davide Gariglio ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola. Grazie Presidente. Nel porto di Genova, nella notte di mercoledì 7 scorso, la nave La Superba del gruppo Grandi Navi Veloci ha fatto delle operazioni di carico e scarico, delle operazioni di rizzaggio in autoproduzione, cioè usando i propri lavoratori marittimi invece che i lavoratori portuali. L'operazione si è ripetuta sabato scorso sempre da parte di una nave del gruppo Grandi Navi Veloci, la nave Fantastic. In tale occasione i sindacati sono intervenuti, hanno constatato anche attraverso dei video che sono stati messi anche online che l'operazione di rizzaggio dei semirimorchi, cioè di ancoraggio dei semirimorchi alla nave era svolta dagli operatori marittimi, da lavoratori marittimi, invece che da lavoratori portuali. Sono intervenute le autorità portuali, è intervenuta la capitaneria di porto e a quel punto la nave ha sospeso l'operazione di carico, ha preferito lasciare i mezzi sulle banchine dei terminal piuttosto che caricarli. Ecco, chiediamo al Ministro se sia consapevole di questa grave violazione di legge che è avvenuto nel porto di Genova. Grazie. Grazie Deputato Cariglio, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paolo De Micheli ha facoltà di rispondere a lei la parola. Grazie Presidente. In tema di autoproduzione dei servizi portuali, l'articolo 199 bis del Decreto Legge 34 del 2020 ha previsto in particolare che ove non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 dell'84 né tramite ricorso all'impresa o all'Agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo prevista all'articolo 17 della stessa legge, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione alle seguenti condizioni che sia dotata di mezzi meccanici adeguati, che sia dotata di personale idoneo e aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni che sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione quanto al previsto decreto attuativo informo che è in via di definizione il contenuto dello stesso già oggetto di un confronto molto positivo con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali in data 9 ottobre in relazione agli episodi richiamati all'atto in discussione sulla base degli elementi forniti dalla Capitaneria di Porto di Genova rappresento che in data 10 ottobre 2020 gli ispettori dell'autorità di sistema portuale contattavano il personale della Capitaneria rappresentando di essere intervenuti a bordo della nave GN Grandi Navi Veloci Fantastic a seguito di una segnalazione dei delegati sindacali delle rappresentanze dei lavori a portori portuali della compagnia unica del porto di Genova nella quale veniva riferito di un possibile svolgimento da parte del personale di bordo di alcune attività in regime di autoproduzione giunti sul posto i militari della Capitaneria procedevano all'acquisizione delle informazioni del caso dalle persone presenti dalle quali emergeva che le operazioni di carico della nave Grandi Navi Veloci Fantastic si erano svolte nel corso della mattinata e che alle operazioni di assicurazione del carico alla struttura della nave tramite vincoli per impedirne lo spostamento di navigazione aveva provveduto il personale della compagnia unica i marittimi imbarcati sulla nave avevano invece provveduto alle operazioni di sollevamento e abbassamento dei semirimorchi in presenza dei militari della Capitaneria con l'accordo degli operatori della compagnia unica del comandante della nave e con i rappresentanti dell'armatore è stato effettuato il carico e la conseguente operazione di assicurazione di un container contenente i bagagli dei passeggeri acquisite le informazioni e ultimate le operazioni di carico la nave lasciava il porto alle 15.40 la Capitaneria di Porto riferisce che sono ancora in corso di svolgimento gli accertamenti relativi all'episodio che ho sopra descritto le navi in casi specifici e previsti da norme possono attuare in autonomia operazioni tecniche senza l'ausilio dei servizi portuali autorizzati siamo parzialmente soddisfatti e parzialmente insoddisfatti nel senso che ci chiediamo cosa ancora debba attendere la Capitaneria di Porto per accertare quello che è successo le operazioni di autoproduzione come dice lei correttamente possono avvenire unicamente se sono autorizzate vengono autorizzate solo se la richiesta viene fatta e la richiesta può essere fatta quando il porto non abbia una struttura di personale dei terminal o delle compagnie portuali idoneo farlo ma noi partiamo del porto di Genova del più grande porto non italiano del Mediterraneo è assolutamente attrezzato per fare questa operazione quindi in quel caso c'è stata una palese violazione di legge perché non era stata chiesta l'autorizzazione ad opera della nave di fare operazioni portuali e qui c'è un problema che le leggi del Parlamento italiano votate da questa Camera con un emendamento al Decreto 34 non possono essere impunemente sfidate non possono essere impunemente sfidate non solo da armatori di comodo ma in questo caso da armatori che battono bandiera italiana che sono ampiamente subvenzionati da questo Stato allora questa situazione è inaccettabile mette a rischio i lavoratori marittimi che non sono attrezzati mette a rischio la sicurezza della nave perché queste operazioni a volte sono fatte con la nave in movimento e danneggia le imprese portuali che pagano le tasse pagano le concessioni per stare nei porti e per fare un lavoro che si vedono sottratto dai lavoratori degli armatori allora chiediamo che il Ministero attui celermente la norma con il decreto ministeriale perché è la grande occasione di mettere ordine nel mercato di far sì che i portuali facciano i portuali i marittimi facciano i marittimi e ci sia sicurezza per gli uni, per gli altri per le navi e per i passeggeri grazie prossimo intervento